Intervento dei Vigili del Fuoco poco dopo la mezzanotte di oggi, 10 maggio, per un incidente stradale sulla strada regionale 11 nel comune di Sona, in provincia di Verona. Un'autovettura con due persone a bordo che viaggiava in direzione Verona, giunta all'altezza dell'incrocio con via Bosco nel comune di Sona, ha perso il controllo andandosi a schiantare contro un platano. Dopo l'urto, il mezzo ha preso fuoco, mentre i due occupanti, marito e moglie, sono stati estratti da altri automobilisti di passaggio. I Vigili del Fuoco, giunti da Verona e da Villa Franca con due autopompe e 10 operatori, hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto la vettura, oltre a collaborare con i sanitari per prestare soccorso alle due persone che, gravemente ferite, sono state rianimate prima di essere trasportate presso gli ospedali locali. Purtroppo la donna, una 51enne, è deceduta durante il trasporto all'ospedale per le gravi lesioni riportate. Durante le operazioni la strada è rimasta chiusa al traffico. L'intervento si è concluso con la bonifica della vettura e la sua messa in sicurezza intorno alle 3 del mattino.